La stazione ci dà il primo benvenuto Il luogo di preghiera, la cattedrale monumentale L'oriente appare con la chiesa russa A ricordo di tempi eroici la costruenda tomba di Mannerheim, condottiero della Finlandia Ma ad un tratto la città si trasforma Lungo le grandi arterie che percorriamo sventolano innumerevoli bandieri italiani Con i manifesti che in continuo crescendo tappezzano i muri dei palazzi e delle case I colori della patria ci guidano verso il quartiere Ove si inaugura una grande mostra dei prodotti italiani Hanno voluto onorarla della loro presenza il presidente della repubblica e la signora Pasi Chiri Il primo ministro che connen e altri membri del governo Da parte italiana l'ambasciatore Vita Finzi e gli addetti all'ambasciata L'immensa distanza che separa il nostro paese dalla Finlandia si annulla in questi padiglioni Poiché l'Italia è venuta fin qua su per farsi meglio conoscere Espone le opere del suo ingegno e del suo lavoro in una sintesi completa e attraente Il nostro valle si incontra col signor Erik Frenkel, sindaco della città E presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi del 52 Discute con lui dei problemi cinematografici attinenti a questa grande manifestazione Grandiosa anche la preparazione di cui vediamo eloquenti testimonianze Accanto ad immensi alberghi per gli spettatori sta sorgendo il villaggio olimpiaco Destinato ad ospitare gli atleti del mondo intero Tra le opere già compiute la splendida ellisse del motovelodromo Sulla quale si disputeranno i campionati di ciclismo su pista Per gli sport equestri ecco come si presenta in un suggestivo paesaggio L'area che verrà di vita ai concorsi a ostacoli La pianta della città olimpiaca rivaleggia con quella di una capitale E nulla è stato trascurato Nuotatori e tuffatori ecco la sede dei vostri cimenti Da queste tribune assisteremo alle gare di canottaggio Infine lo stadio olimpiaco capace di oltre 100.000 spettatori Costruito nel 38 in vista delle olimpiadi del 40 Che la guerra cancellò dal calendario agonistico è stato ancora ingrandito Dotato dei più moderni impianti rappresenta Quanto di più perfetto si possa immaginare nel campo dell'edilizia sportiva Dall'alta torre che domina la città olimpiaca guardiamo e ammiriamo Ammiriamo questo popolo che dedica tutto se stesso alla patria e al lavoro Un popolo che fa su un serio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti